Inaugurato stamane dal professor Ferdinando Di Orio, rettore dell'Università dell'Aquila, il primo edificio a basso consumo energetico che ospiterà alcuni edifici amministrativi nel polo universitario di Coppito, appuntamento disatteso dal ministro dell'istruzione e della ricerca Maria Stella Gelmini e dal presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi. Si tratta di un sistema costruttivo altamente innovativo, frutto della collaborazione scientifica fra l'Università di Parma e quella abruzzese e realizzato grazie alla donazione di COGESI, associazione temporanea d'impresa formata da due società parmigiane e tre realtà industriali altamente consolidate, la Celenit, Mitsubishi Electric e Sengoben. Le alte prestazioni del nuovo edificio di circa 200 metri quadri in termini di sicurezza, isolamento termoacustico ed ecosostenibilità ci vengono illustrate dal divisional manager della Mitsubishi, dottor Fabrizio Maia. Per darvi qualche numero vi dico che un edificio così, se fosse stato costruito con tecnologie tradizionali, butterebbe in ambiente in un anno circa 15 tonnellate di CO2 e consumerebbe il 40% in più. Qui non abbiamo cammino, per cui non si produce niente sul posto di CO2, tutta l'energia elettrica che viene utilizzata, che tra l'altro è una zona sismica, per noi era fondamentale perché, come voi sapete, il gas non è esattamente il massimo della sicurezza in una zona sismica, in questo caso abbiamo avuto la possibilità di dire che questo edificio vive col sole, si climatizza d'estate, si riscalda d'inverno e si produce l'acqua calda. Al posto della caldaia c'è una pompa di calore esterna, che è un cubo di un metro per un metro, che è tutta la sala macchina di questa palazzina.